Cari ascoltatori, oggi ancora una volta vorrei salutarvi calorosamente nel prezioso e santo nome di Gesù. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato gli auguri di Natale e Capodanno. Guardiamo al futuro con grande fiducia, perché attraverso lo Spirito di Dio il futuro ci è stato rivelato. Siamo uniti a molte migliaia di persone che aspettano la venuta di Gesù Cristo, che desiderano entrare nella gloria. Pensiamo ancora ai giorni di festa che sono appena dietro di noi e abbiamo scoperto che pochi hanno capito il vero significato della nascita di Gesù Cristo, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione e la sua ascensione e infine la sua seconda venuta. Il cristianesimo è stato ampiamente elevato a religione riconosciuta in un mondo miscredente senza che gli uomini trovassero un rapporto diretto con Gesù Cristo come loro Salvatore. L'incarnazione di Dio è stato il più grande miracolo. La parola si è fatta carne e ha abitato in mezzo a noi. Dio, che è Spirito, secondo la sua natura, ha adombrato la Vergine Maria e attraverso di lei ha portato il rivestimento terreno del corpo in questo mondo. In questo modo Dio ha portato il suo piano di redenzione all'umanità e ci ha fatto sapere che siamo stati riconciliati con lui in Gesù Cristo. L'incarnazione del Signore era il presupposto per redimerci dalla schiavitù del peccato, dalla morte e dalla distruzione eterna. Non solo la nascita di Gesù, ma la sua sofferenza e la sua morte sono state della massima importanza nella storia della salvezza, così come la sua risurrezione e la sua ascensione. Ora, alla fine dell'anno, molti stanno pensando a cosa porterà il futuro. Ovunque la gente è occupata a cercare di capire cosa succederà presto. In Giovanni capitolo 16 leggiamo Quando però sarà venuto lui lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità e vi annuncerà le cose a venire. Non è una speculazione a cui dobbiamo cadere preda. Quando avremo conosciuto la parola di Dio, avremo un concetto di ciò che ci aspetta. Già nell'Antico e nel Nuovo Testamento, attraverso i profeti, attraverso il Signore Gesù, gli Apostoli e non ultimo attraverso il libro conclusivo dell'Apocalisse, ci viene detto cosa accadrà negli ultimi giorni. Molti si chiedono cosa porterà l'anno 1977? A questo proposito devo far notare che il fratello Branham ha enfatizzato proprio quest'anno in un modo molto speciale. Nel prossimo futuro accadrà certamente qualcosa di straordinario. In quel tempo lui aveva l'impressione che tutto questo si sarebbe realizzato entro il 1977. Per quanto riguarda le cose che il Signore ha scritto nella sua parola e rivelato attraverso lo spirito e mostrato nelle visioni, sappiamo che si adempiranno. Tra le altre cose, il fratello Branham vide il distacco della costa occidentale degli Stati Uniti. Lui ha visto come questo causava uno tsunami che raggiungeva centinaia di miglia all'interno degli Stati Uniti. Ha anche nominato i singoli stati e i luoghi dove l'acqua arrivava. Ha parlato di milioni di persone sulla costa occidentale dell'America che venivano spazzate via in pochi minuti. Lui vide anche la distruzione dell'America e ha parlato di un potente attacco militare che avrebbe colpito gli Stati Uniti. Nei vari contesti lui ha menzionato l'anno 1977 e l'ha anche collegato a questo. Personalmente credo che le cose che Dio ha detto nella sua parola e che sono state mostrate nelle visioni, così dice il Signore, sono e troveranno il loro compimento come il Signore ha annunciato. Ma per quanto riguarda la determinazione del tempo, non ho la sensazione migliore, perché Dio non si orienterà certamente secondo il nostro calendario, anche se si può dire la fine di tutte le cose si è avvicinata. Questo è il tempo in cui possiamo contare su nuovi eventi ogni ora e ogni giorno e non ultimo sul ritorno di Gesù Cristo. Ma è inutile che sia fissato il tempo. È meglio essere pronti in qualsiasi momento, in modo che quando il Signore ci chiama possiamo essere con Lui. In Matteo capitolo 24 e in numerosi altri passi della Bibbia ci vengono descritti i tempi della fine. Non c'è bisogno di altre interpretazioni. Abbiamo solo bisogno di occhi aperti e dello Spirito Santo che ci guidi in tutta la verità. Ma come abbiamo visto, solo chi è nato di nuovo dallo Spirito di Dio può capire le cose spirituali. In quel tempo il Signore Gesù parlava in parabole, ma Lui ha annunciato che sarebbe arrivata l'ora in cui avrebbe parlato in piena trasparenza. Nella Bibbia ci sono scritte tutte le cose che sarebbero accadute dall'inizio della creazione fino alla fine. Parla anche del giudizio al trono bianco e del nuovo cielo e della nuova terra. Ogni evento che riguardi la Chiesa, le nazioni o il popolo di Israele, in qualsiasi contesto, è già nella Bibbia. Ma abbiamo bisogno della guida e della direzione dello Spirito Santo per capire, attraverso la rivelazione divina, di che genere di evento si tratta, in quale contesto avverrà e in quale tempo accadrà. Ovviamente, al tempo della prima venuta di Cristo, gli scribbi avevano difficoltà a distinguere tra le profezie che parlano della sua prima e della seconda venuta. Perciò non riconobbero che il Messia era in mezzo a loro. Allo stesso modo, accade molto spesso oggi che i predicatori interpretino certi eventi legati a Israele, alla Chiesa e viceversa. Niente è più importante che collocare ogni evento biblico nel suo giusto contesto. A questo scopo, Dio manda i Suoi servitori e i Suoi messaggeri e ci dà il Suo Spirito Santo per annunciarci queste cose. Il Signore aveva molte cose da dire, ma ancora oggi ci sono persone che non le sopportano. Beato colui che è nel regno di Dio, che ha sperimentato il perdono della colpa e del peccato e ha ricevuto la certezza della fede di essere un figlio di Dio. Beato l'uomo che è condotto dallo Spirito Santo in tutta la verità, che ha ricevuto il Consolatore e l'aiuto divino per poter alzare lo sguardo in tutte le situazioni della vita all'autore compitore della nostra fede. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, possa Dio fare di noi persone che camminano nelle sue vie, persone alle quali Egli può parlare, che si lasciano condurre dal suo Spirito e che non sono all'oscuro delle sue azioni in questo tempo. La luce brilla nelle tenebre, la strada è spianata, il messaggio di Dio per questo tempo è risuonato. Si può soltanto dire, chi ha orecchi per udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non siamo preoccupati per il futuro, ma vogliamo mettere ogni giorno di nuovo la nostra fiducia in Dio. Vogliamo mettere le prime cose al primo posto. La prima esperienza che dobbiamo fare con Dio è una conversione nel modo biblico. Lo Spirito di Dio deve venire su di noi e condurci al pentimento e risvegliare in noi un desiderio di comunione con Dio, in modo da implorare misericordia e grazia. Dobbiamo sperimentare una nuova nascita, come viene insegnato nelle Sacre scritture, come richiesto da Gesù Cristo, il nostro Signore, prima di poter entrare nel Regno di Dio. Il Regno di Dio non inizia solo dopo la morte. Il Regno di Dio è già stabilito nei nostri cuori, ora, a condizione che Gesù Cristo vi abbia preso di mora. Ogni persona che sperimenta Cristo è grata per l'annuncio biblico che gli ha mostrato la via verso Gesù. Non basta che lui sia nato a Bettelemme. Lui deve nascere nei nostri cuori. Soltanto allora il più grande evento della salvezza avrà un significato personale per noi. Allora non giudicheremo più le cose per sentito dire, ma potremo testimoniare ciò che abbiamo sperimentato. Beata la persona a cui Dio estende la sua grazia, su cui ha misericordia, che riconosce il giorno della salvezza e il tempo in cui viviamo. Beata la persona che è nel Regno di Dio, a cui è permesso di vedere, sentire e sperimentare ciò che Dio sta facendo ora nella sua chiesa. Anche persone di tutti i paesi, lingue e nazioni vengono afferrate dalla potente opera dello Spirito Santo in questo tempo. La parola del Signore, non temete, ecco io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo, sarà un conforto per tutti e ci darà sempre nuove forze. Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Preghiamo. Padre Celeste, siamo pieni di fiducia e ti ringraziamo con tutto il cuore per il grande privilegio di essere nel tuo Regno, di ascoltare la tua parola e di essere guidati dal tuo Spirito. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato questo sermone. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Gesù. Amen. Grazie a tutti.